Per 35mm oggi intervistiamo Katia Fongarnier, che è la regista tedesca del film Windstorm, un bellissimo film che parla di un cavallo e una bambina, è in concorso nella categoria più 13 e al Giffon Experience 2013 e le facciamo la prima domanda che riguarda appunto il film, perché hai deciso di fare questo film? Quanto è stato difficile girare con un cavallo e una ragazza? Sì, come si dice che non devi fare un film con un cavallo e non devi fare un film con un figlio, e abbiamo fatto il quale. Sì. La forma che questo funziona è che devi essere molto ben preparato, come in guerra, per sapere esatto che vuoi, ma devi, nel prossimo momento, farlo e essere molto spontaneo, come se un cavallo fa qualcosa che sia interessante devi dire come vieni qua! Ed infine, un messaggio per i ragazzi del Giffoni e che cosa pensi di questa esperienza qui al Giffoni 2013? Oh, ho avuto un fantastico tempo, credo che è un festival visionario, è stato un grande honore di essere qui, e piacere il resto della settimana e vieni a vedere Windstorm! Millimetri, 35 millimetri, 35 millimetri, vieni a leggere 35 millimetri!